Ci troviamo al nuovo di via Olimpia nella gara del campionato regionale categoria Juniores Under 19 Virtus Castelfrentano Virtus Lanciano Poi c'è Lanciano con la divisa bianca e la Virtus Castelfrentano con la divisa giallorossa Oh, che ho passato a la rata? Il direttore di gara E Capuzzi della sezione aia di Lanciano Due tempi da 45 minuti l'una Virtus Castelfrentano Che attacca dalla destra alla sinistra Mentre la Virtus Lanciano attacca dalla sinistra alla destra Ripeto, giallorossi, la Virtus Castelfrentano Divisa bianca, calzettoni neri La Virtus Lanciano A momenti c'è l'inizio, il fischio di inizio della gara E' la prima gara del direttore di gara di oggi Qua nella categoria Juniores Comunque ha già allenato anche a noi negli allievi e giovanissimi E' iniziato la gara La formazione è con il numero uno D'Ottavio Matteo Francesco, il portiere Con il numero due Alessio Ceroli Con il numero otto Matteo Testini Con il numero 17 Salini Giancarlo Giallonardo con il numero 19 Di Marco Luca con il numero 11 Con il numero 17 Con il numero 7 Matateidi Con il numero 10 Daniello Michele Vice Capitano Serrante Marco con il secondo portiere Con il numero 12 Numero 6 Flavio Ciricola Numero 18 Costantino Antonio Numero 15 Idris Amdani Rapino Antonino come collaboratore di linea Parata del nostro portiere Numero 5 Federico De Nobile Numero 14 Numero 14 Bartolomeo Cirillo Inarte Bartolo Numero 9 Iessi Andrea Numero 3 Alessandro Marcello Numero 4 Nicolo D'Angelo Numero 16 Cuniberti Lorenzo detto Pitbull Dove abbiamo il numero 13 Di Cuori Marco Come ho detto Collaboratore di linea Antonino Rapino L'allenatore mister Gabriele Di Felice L'addetto all'arbitro è il signor Minuto Guido Il dirigente accompagnatore sottoscritto Cavadier Carlo Iocco Buona visione Qua dal nuovo di Via Olimpia per la gara del campionato regionale categoria Juniores Under 19 Virtus Castelfrentano con la divisa giallorossa e la Virtus Lanciano Risultato parziale in questa prima fase del primo tempo 0-0 Alle prossime riprese Restiamo alti Restiamo alti sul Restiamo alti sul